Eccoci e bentornati sul mio canale, nuova breaking news su LEGO Marvel Super Heroes 2, gioco svelato ieri sera con il review al trailer completo che state vedendo. Perché questo video? Perché ragazzi è uno dei giochi che più attendevo e soprattutto il primo se ben vi ricordate l'ho spappolato qui sul mio canale YouTube. Ci saranno tantissimi personaggi dei guardiani della galassia tra cui Groot, Groove Racon, Starlord, Gamora, Drax, Doctor Strange, Doctor Hawkculus, Goblin, Spider Gwain, Spider-Man Noir, L'Uomo Ragno 2099, Capitano America e Thor. Data di rilascio fissata per il 17 novembre di quest'anno su PS4, Xbox One e PC. Sicuramente a novembre lo porterò sul mio canale perché è uno dei giochi che attendo di più. Fatemi sapere qui sotto nei commenti che cosa ne pensate e noi ci vediamo con tanti nuovi video. Se il video vi è piaciuto iscrivetevi sul mio canale, mettete un bel mi piace sul mio video e ci vediamo ovviamente con tanti nuovi video, sempre qui, sempre sul mio. Canale.